Partiamo da questa che è una moneta medio imperiale, forse secondo secolo dovranno studiarla poi gli archeologi, ma ci racconta che dalla villa di Mutteron dei Frati si può finalmente avere un aiuto cronologico per le datazioni che naturalmente c'erano anche con gli altri materiali, ma questo come ben sappiamo dall'introduzione all'archeologia è proprio un metodo classico, se viene trovata in contesto è utile veramente per la datazione. Ma è sempre più importante lo scavo di Mutteron dei Frati di questa villa romana perché sta permettendo la comprensione di una pianta molto complicata della villa, nuovi mosaici, ma soprattutto la composizione della villa stessa che si inserisce in un paesaggio molto ampio e di cui si devono ancora cercare le varie strutture produttive. Insomma diciamo che il lavoro sulla villa è molto eccitante dal punto di vista dei dati che vengono appunto raccolti. Quest'anno abbiamo scoperto soprattutto due nuovi ambienti mosaicati di cui non abbiamo avuto conoscenza prima, sono la novità forse più spettacolare anche per i non professionisti diciamo, che ci racconta un po' anche la storia di questa villa che sembra sia molto più complessa che non abbiamo pensato prima. Qui abbiamo due lacerti musivi sempre mosaici soprattutto bianchi ma con bordi neri anche qua con doppio bordo nero e qua vediamo anche l'angolo e qui pure l'angolo del bordo che vuol dire che qua siamo al limite di quell'ambiente mosaicato. Il muro si trovava proprio in questa posizione qua, non si vede adesso e un altro muro traversale qua in questa posizione. Questo è un ambiente e questo è un altro ambiente della villa. È molto complesso, è molto esteso anche e ha avuto anche una vita molto lunga a quanto pare, perché abbiamo anche documentazione adesso di una vita che continua fino al quinto secolo dopo Cristo, mentre questi mosaici che vediamo qua sono probabilmente del primo secolo dopo. Quindi abbiamo una villa produttiva, rurale, con ampie parti signorili che vivono 4-500 anni? Può essere questa l'idea diciamo? Sì, questa sarebbe l'idea, soltanto che la porta produttiva non l'abbiamo ancora trovata. Adesso stiamo pulendo i residui di strato superficiale per poter avere lo strato ben visibile, perché essendo una zona sabbiosa si riempie facilmente di polvere e di granelli e quindi risulta tutto un po' più illeggibile. Invece così facendo possiamo vedere bene il vuoto lasciato dal muro che separa i due mosaici. Tra l'altro qui vedo che questo lacerto di mosaico è già bello pulito. Bello pulito dai restauratori che sono passati ieri pomeriggio con la scuola di restauro di Venezia e sono intervenuti su questo mosaico, infatti si vede molto bene la differenza con quello che... Quando esce, lo facciamo vedere, quando esce dallo scavo ovviamente non esce così. Esattamente, realisticamente questi due sono dello stesso identico colore, solo che in questo sono intervenuti i restauratori. In realtà qui ci aspettavamo di essere fuori dalla villa. Come diceva il professore precedentemente, avevamo delle piante degli anni 30, ma nessuna indicazione più precisa. E soprattutto il mosaico più a ovest è stata la grande sorpresa di questo turno. il lacerto più grosso che abbiamo, che è venuto fuori dagli scavi di Regensburg. Può essere ritenuta una villa marittima o no? Sì, può essere considerata una villa marittima perché dobbiamo immaginarci la costa, la linea di costa molto più vicina rispetto alla situazione odiana. Adesso il litorale di Bibione, di Stradart qua, un chilometro e mezzo più o meno, ma dovrebbe essere stato molto più vicino in epoca romana, un centinaio di metri così, non di più. Quindi non è escluso che quando troverete la parte produttiva ci sia anche piscicultura? Sì, questo che aspettiamo, anche perché abbiamo trovato nelle diverse campagne di scavo anche oggetti come pesi per reti da pesca, queste cose qua. Quest'anno siamo stati fortunati perché abbiamo ritenuto alcune monete, alcune anche veramente in un ottimo stato di conservazione, che quindi ci rendono la leggibilità molto agevole, molto semplice e ci permettono di inquadrare gli strati da cui provengono ad età medio-imperiale, come è il caso ad esempio di questa moneta di modulo maggiore, rispetto ad altre invece che hanno modulo minore, che inquadriamo invece in età tardo-imperiale, indicativamente tra quarto alcune anche che abbiamo rinvenuto possibilmente già ancora nel V secolo. Però vedo che, qui stiamo parlando di metalli, i metalli non mancano quest'anno. I metalli non mancano, anzi sarebbe quasi il caso di dire che questo è l'anno dei metalli. Oltre ad una serie di chiodi che abbiamo rinvenuto, chiodi da carpenteria, molto diffusi in realtà, e qui li vediamo anche già dopo aver subito un primo trattamento di pulitura e consolidamento, ma soprattutto siamo stati molto felici del rinvenimento di questi due manufatti. Nello specifico abbiamo un coltello in ferro, dove sono ancora molto ben riconoscibili il manico e la lama, e poi un altro manufatto che ci ha molto sorpreso e resi molto felici, la punta di una freccia, di una lancia probabilmente, date le dimensioni. Questa ancora non ha ricevuto un intervento di pulitura, ma sarà nostra cura occuparcene quanto prima. È veramente una delle ultime cose che sono emerse dai nostri scavi. Ecco, voi state cercando la comprensione del paesaggio e dell'antropizzazione, insomma, di come l'uomo ha lavorato su questo paesaggio. Sì, ci interessa capire veramente il senso di questa villa, una villa marittima, ma che era, come sempre nel mondo antico, inserita in un contesto anche economico importante, non solamente di grande godimento estetico così rivolto verso il mare. È per questo che, come avete visto, gli scavi si stanno allargando per capire l'articolazione, ma anche per capire se ci sono parti più legate all'economia, perché finora sono emesse solo settori residenziali che giustamente erano rivolti verso il mare. Vedremo in futuro. E rivolti verso il nord, forse verso la laguna, è più facile perché la laguna è una grande risorsa economica per la pesca e per cui è molto facile che ambienti di tipo più rustico e anche produttivo fossero più rivolti verso la laguna. Abbiamo dei confronti anche in questo. E quindi rivolgiamo alle ricerche anche verso l'interno, verso la laguna, per capire questa villa, ma naturalmente verso un territorio molto più ampio. Noi adesso siamo in questa posizione dove c'è questo pallino rosso, ma accanto agli studi analitici di scavo sulla villa e sul suo territorio proprio circostante, noi vogliamo estendere, stiamo estendendo le ricerche a un territorio più ampio della fascia costiera, tra i due rami del tagliamento. Questo fa parte anche del survey della ricognizione sul terreno che abbiamo potuto seguire in diretta? Certo, certo. Allora, infatti la ricerca si articola in due momenti. In marzo il momento dello scavo della villa, in novembre il momento della ricerca sul campo, quando i terreni sono fermi da coltivazioni e quando c'è una maggiore visibilità. E quindi stiamo indagando tutto questo territorio che oggi è coltivato, ma che forse anticamente era occupato da spazi acquei molto più estesi, come la cartografia storica, però di epoca seicentesca, ci mostra. Noi vogliamo cercare di capire com'era il paesaggio in età romana. Immancabile, naturalmente, il materiale ceramico che ci consente di inquadrare cronologicamente, anche con delle buone, senza grossi errori, gli strati da cui questi materiali provengono. Questo ad esempio ci dice che cosa è importato? Sì, è importato nello specifico questo piatto, perché siamo in grado di ricostruire anche la forma di questo oggetto, che abbiamo rinvenuto in numerosi frammenti, ma di cui ci siamo accorti appunto di numerosi punti di attacco e quindi abbiamo potuto intanto incollare i pezzi contigui, ma ricostruire appunto tutta la forma e il tipo. Si tratta di un materiale importato dal Nord Africa, in particolare dall'attuale Tunisia, e ci testimonia la frequentazione della villa in fasi, anche queste, piuttosto tarde. Probabilmente si tratta di uno dei reperti più tardi di cui disponiamo tra il quarto e il quinto secolo. Con l'eccezione di quello che vedo subito dopo. Con l'eccezione di questo invece si tratta di un fondo, ancora di una coppa, di un piatto, di una classe ceramica medievale che è la ceramica graffita. In particolare questa la possiamo riferire ad età tardo-rinascimentale della seconda metà del 1500. Che nulla ci intra con la villa, ma ci dice che il luogo era frequentato. Certamente, anzi, questa cosa ci incuriosisce molto e ci spinge a studiare, anche con particolare interesse, questa fase storica, per cercare di ricostruire e di raccontare, certamente, quella che doveva essere la vita del sito, anche quando la villa romana non esiste più in quanto tale. È una grande esperienza, perché nei primi semestri solo le libri sulle escavazioni, le escavazioni vecchie, e sempre hai molti texti, e non puoi immaginare come un'escavazione davvero va, quindi è molto difficile capire questi texti. E poi quando sei qui e si tratta di un po' di grado, si vede cosa sta succedendo e si partecipano. È una esperienza completamente diversa. Qui stiamo identificando dove finisce la villa, o almeno uno degli edifici della villa, o andiamo avanti? Allora, diciamo che siamo in corrispondenza del saggio numero 7, siamo nella porzione più settentrionale, per l'appunto, del complesso, in un'area mai stata scavata in precedenza, quindi a nord degli scavi anni 30 e anni 90. Nello specifico dove siamo in questo momento sulla pianta? Nello specifico siamo in questo punto, in corrispondenza della struttura muraria che si può vedere qui a lato e che le colleghe stanno pulendo. E a nord di questa struttura in muratura abbastanza possente troviamo invece tutto questo strato di intonaco in crollo. Era uno strato ricoperto da uno spesso livello di limo argilloso che probabilmente era pertinente agli alzati della villa, probabilmente realizzati in pisè, ipotesi insomma di lavoro. Avete trovato decorazioni qui? Allora, al momento l'intonaco è prevalentemente bianco, la faccia però è rivolta verso il basso. Quindi aspettiamo il momento di girarlo. Aspettiamo la rimozione per l'appunto. L'intonaco poggia su un piano, probabilmente in cocciopesto, che siamo riusciti ad individuare parzialmente in tutto questo settore e accanto al cocciopesto troviamo la preparazione in sostanza. Quindi questo doveva essere verosimilmente il piano di frequentazione antica su cui poggia quindi il crollo dell'intonaco. Qui c'è un'altra possibile evidenza riconducibile forse a una struttura muraria e come abbiamo indicato in pianta è possibile che ci fosse un muro che divideva un probabile ambiente interno da una zona forse esterna che dobbiamo ancora indagare nell'arco della prossima settimana. Quello che si vede al momento è un spargimento di laterizi in superficie che copre insomma tutta questa superficie. Anche in questo caso quindi dobbiamo ancora approfondirci, rimuovere un livello per avere un po' più chiara questa situazione. Però qui voi state intercettando il paesaggio antico di fatto? Beh, certamente. Diciamo che verso questo lato dovevano esserci con buona probabilità gli spazi lagunari quindi è probabile che ci fossero degli ambienti della villa rivolti verso l'interno. non sappiamo ancora quanto l'edificio si spinga in questa direzione. Ecco, dove intravediamo le dune che non è facile vedere sotto la vegetazione? Beh, in questa sezione stratigrafica possiamo vedere in sostanza, beh, abbastanza chiaramente, uno strato superficiale che è sostanzialmente la cotica erbosa e poi uno spesso strato di sabbia con andamento di gradante e queste sono le sabbie che sono scivolate dall'antica duna che coprono quindi le nostre evidenze archeologiche. Vedendo l'altezza anche rispetto a lei che è piuttosto alta, vediamo che insomma quello che sembra piatto in realtà è tutt'altro che piatto. qui c'è... Decisamente, come si vede siamo a oltre un metro insomma già di profondità rispetto al piano di campagna, rispetto al piano di calpestio. Quindi vegetazione fitta, stratigrafia piuttosto potente dal punto di vista... Sabe, scivolamento della duna... Non è uno scavo facile? Non proprio diciamo, però avvincente. Grazie.